Luigi Di Maio usa il salotto di piazza pulita per tornare in tv e ottenere visibilità Da Formigli l'ex ministro parla del mese e di fatto inguaia Conte affermando che il suo governo, quello giallorosso, votò a favore Il governo Conte è caduto il 26 gennaio del 2021, quindi quando io ho firmato l'atto il 20 gennaio il governo era nel pieno dei suoi poteri Il presidente Meloni ha messo in dubbio l'onore con cui ho amministrato la carica di ministro degli esteri per tre anni e quindi mi trovo qui a rispondere a Tacca Di Maio Scorda però di dire che un atto così importante magari non si firma a pochi giorni dal crollo dell'esecutivo Lo scricchiolio si sentiva già da tempo e quindi la data cambia poco la sostanza dei fatti Il presidente del consiglio dice due cose, una vera e una falsa. Quella vera è che il governo Conte II nel 2020 ha votato la riforma del MES Lo ha fatto il 30 novembre con il ministro Gualtieri all'Eurogruppo, lo ha fatto in Parlamento il 9 dicembre con Movimento 5 Stelle, Fidi e Italia Viva che votarono a favore e lo ha fatto il presidente Conte in persona all'Euro Summit l'11 dicembre Poteva non farlo? Poteva non votarlo? Certamente, ma abbiamo deciso di votarlo perché non rappresentava una minaccia per l'Italia e uno strumento che chi voleva utilizzarlo lo utilizzava in Europa e chi no La stessa cosa può fare il presidente Meloni adesso, se ritiene che il MES sia una cosa contro l'Italia può non ratificarlo e bloccarlo dice Di Maio Peccato che proprio oggi, proprio Conte ha affermato, in un'intervista al Foglio che il Movimento 5 Stelle non voterà mai il MES L'ennesima giravolta tipica dei grillini poltronari. Ricorda tanto Di Maio in questo